Dottor Laronga, a che punto è la lotta alla mafia foggiana? È a un punto di svolta perché ci sono state negli ultimi anni tanti interventi da parte della magistratura del distretto di Bari, della DDA ma anche della procura di Foggia e sono iniziate anche le collaborazioni con la giustizia di una serie di personaggi di spessore della criminalità foggiana. Quindi siamo ad un punto davvero importante, un punto di svolta. Ortanova? Ortanova è una delle zone più complesse del circondario foggiano. Il comune è stato sciolto il 18 luglio del 2023 per infiltrazioni mafiose, c'è una cosca molto agguerrita, la cosca dei Gaeta, è un territorio complesso, difficile. Io mi auguro che questa comunità abbia la forza per reagire, perché la lotta alla criminalità non si fa solo con le sentenze e con le manette, ma si fa anche con la prevenzione, con l'educazione, con delle istituzioni locali forti. Lo scioglimento del comune ha documentato la presenza di una istituzione molto debole, condizionabile, influenzabile. Ecco, quindi è importante che i cittadini di Ortanova scelgano rappresentanti forti, capaci di resistere a questi condizionamenti. Il suolo della stampa nella lotta alla mafia? È molto importante. Guardate, i mass media devono parlare di mafia, devono raccontare, perché devono far conoscere questo fenomeno. Dovete parlarne e non in termini a volte, come dire, sbagliati, perché anche questo è un dato che influenza la lotta alla mafia. Guardate, per tanto tempo ci sono stati atteggiamenti negazionisti. Poi che cosa è successo? Quando la mafia foggiana è stata seppellita da decine di sentenze che ne hanno affermato l'esistenza, si è cambiato atteggiamento, si è virato appunto verso un atteggiamento di sottovalutazione, si è detto che questa è una mafia primordiale, stracciona. In realtà non è così, non è così, perché ci sono decine di sentenze, di provvedimenti che dimostrano il contrario. Bisogna conoscerli, bisogna parlare di questi provvedimenti e farli conoscere, perché solo una piena consapevolezza del fenomeno mafioso aiuta a reagire. Tuttavia le querele temerarie rischiano però di mettere il bavaglio ai giornalisti, soprattutto a quei giornalisti che fanno lavoro d'inchiesta. Non bisogna temere, bisogna fare bene il proprio lavoro, bisogna rispettare i parametri giurisprudenziali, cioè la verità del fatto, la continenza e l'interesse pubblico. Se si rispettano questi tre criteri non bisogna aver paura di nessuno. Io ho scritto un libro, La Quarta Mafia, nel quale ho fatto decine e decine di nomi, non ho ricevuto nessuna querela, nessuno mi ha querelato, perché sono fatti veri, sono storie vere, c'è l'interesse pubblico e la continenza. Bisogna rispettare anche i soggetti che poi sono stati condannati, coinvolti, bisogna usare, bisogna saper fare bene il proprio mestiere. Dottor Laronga, tuttavia c'è ancora qualcuno che in provincia di Foggia continua a dire che la mafia non esiste e che chi parla di mafia in questo territorio lo fa per infangare l'economia locale. È un grande errore, non è così, non è così. Io spero che riveda questo giudizio chi fa questo tipo di affermazioni, perché non voglio pensare che ci sia un interesse personale dietro, penso sempre diciamo alla scarsa conoscenza del fenomeno o a gente che preferisce girarsi dall'altra parte, ma non è così, non è così.